Ciao a tutti! Ciao Emy! Ciao! Oggi siamo su Tocca World e dobbiamo crearci il personaggio. Emanuela, crea prima il tuo. Personalizzalo meglio. Allora devi farti i capelli più chiari. Noi abbiamo iniziato, però abbiamo pensato di farvi partecipi del nostro personaggio, quindi farvi vedere come facciamo. Non c'è nessuno che mi piace. Ma questo è un maschietto. Sì. Dovresti trovare i capelli. Ma che è babba? Ecco, ecco, questi sono da femmina. E questo qui con i codini? Ti piace? Sì, questo. Ok, però i colori dei capelli devi scegliere il colore dei capelli. Vedi, qua dovresti andare al colore. Ok. Biondo, biondo scuro. Vediamo. Io ti ho biondo scuro tipo così. Un po' più chiaro, un po' più chiaro. No, così è più scuro. Così? No, un po' più chiaro. Vai, vai, più giù, più giù, più giù, più giù, più giù, più giù, più giù. Ok, basta. Così? Però secondo me... Perfetto, sono io. Voglio togliere il cappello, come si toglie? Vediamo qua. Il cappellino lo vuoi togliere? Allora lo devi togliere, devi andare qui. Ok, perfetto. Che a me non mi piace. Allora, il vestitino? Va bene quello? Con il gattino? No, questi sono altri... Ecco! Il gelato in testa. Gattino, questa qua ti sta bene. Allora, vediamo gli occhiettini. Come li possiamo fare? Ti piacciono così? Oppure con le ciglia? No, li mandiamo così, così. Vediamo cosa c'è più qui. E questa è la furbetta. No, 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 no. A me piace moltissimo questo gattino. Poi, vediamo un po' il sorrisino, invece lo rimaniamo così? Sì, sì, sì. Andiamo avanti, dai. Il vestitino invece rimane in questo gattino? Sì, mi piace molto. No, le sopracciglia le dovresti fare marroncine. Beh, anche così vanno bene, dai. Un po' più scuro, poco poco, ok, va bene, basta. Così, te lo vedo. Perfetto. Ok, allora adesso noi salviamo il personaggio e facciamo il mio. Allora, innanzitutto dobbiamo fare la carnagione molto più chiara. Perché non è l'olivio. No, i capelli da penna, questi. Allora, io vorrei... Vediamo un po', vediamo un po'. Vai un po' più su. Vediamo, vediamo, vediamo. Io, oddio, come potrei farlo? Dai, io mi faccio come sto solitamente in casa, con un bel tupino. Però il colore dei capelli a me è particolarmente scuro. Tipo nero. Quasi nero, vediamo un po'. È un castano scuro il mio. Così? Sì, ok. Ora dobbiamo fare gli occhietti. Come occhietti... Vediamo che no, che coloro questi. Dai, facciamo... Voglio tenere questi qui. Poi metto il colore delle sopracciglia, è scuro come i capelli. Sì, vediamo la forma. Dai, hai fatto. Dai, andiamo avanti. No. No. No, con il piercing addirittura. Vediamo questo, aspetto, vediamo questo. Così. Così, dici, oppure così? No, così come prima. Così, così, così. Così, ok. Dai, hai fatto. Ora vediamo le rubicine. Quanto hanno i vestitini? Ah, qui sono solo vestitini? Sì. Prendo anche un vestitino, vediamo quale mi si può... Questo. Abbinare me. Ah, va bene questo, ok. Sì, sì, sì. Poi vediamo... Oppure questo? No, 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 va bene questo qui. Allora... Ma questo mi sembra più una vestagietta. Gli occhiali? Vediamo questo. Sì, è carino. Dai, mettiamo questo. Poi... Dobbiamo vedere ora... Eh, le scarpe restano queste? Sì. Ok, va bene. Dai, andiamo avanti. Ok. Abbiamo fatto i nostri personaggini. Ora, andiamo. Sì, qua, abbiamo capito un bel caffè. Allora, eccoci qui. C'è la macchinetta del caffè. Allora, vediamo un po'. Un bel caffè espresso. Ok, uno per me. Ma bevi! Non lo beve? Di solito si può bere. Non lo prendo in occhio. Ah, tu ti sei preso il latte macchiato. Brava. Sì. Perché il caffè... Ma come si fa a bere? No, è il mio, è il mio, è il mio, è il tuo, danni. Ah, l'ha bevuto. Anche il mio, adesso dai, lo devi inclinare per bere. Vai. Come? E' giusto la bocca. Ok. Bravissima. Che buono questo caffè. Poverita. Quanto si chiama veramente cipolla? Perché si apre una cipolla? Ma è una cipolla molto triste. Adesso sembra più contenta, perché si è seguito. Non voleva stare in piedi, vuole stare seguito. Guardate qua, di solito si tocca un uo, dettano dei... Un diamante! Abbiamo trovato un diamante! Siamo ricche. Siamo ricche? Ok, sì. Adesso ne andiamo? Ve l'avevo detto che si tocca un uo, dettano dei quadri, dove si possono sferire dei segheti. Andiamo? Andiamoci a prendere bene il canio dalla porta. Oh, li avevamo da presi. Eccoli qua, portiamoli a casa. Dobbiamo prendere i regali. Allora dobbiamo mettercelo in mano, un pacco ciascuno. No, perché sono di più. Andiamo a tu. È un oicicchio. Ok, ora ci dobbiamo costruire una bella casina. Ci affattiamo qua. Ok, costruisci. Veloce, veloce. Ma guarda quanto è grande. Wow. Quanto è più grande. Adesso dobbiamo abbellirla. Tutta vuota questa casina. Lascia stare il gabinetto. Allora. Allora, la mia cameretta sarà questa. Sarà questo, ok. Perché non ti serve il tuo catteggio. Sì, poi faremo anche Natali. Questo. Sì, magari domani. Sì, poi se abbiamo tempo. Non potevi scegliere questo P rosa come letto. No, dai. Qua mettiamo un puff e un divano. Un divano? Aspetta. Il puff lo puoi rimanere anche in cameretta. Diciamo questa. Non ti serve. Forse questo è il pavimento. Prova a metterlo a terra. Il mio pavimento lo voglio così. Ah, vedi che pavimento. Non è così? Un po' di legno. Un po' di legno, ti piace? Sì, sì. E senti, per le pareti invece come si fa? Rimangono così? Sì. Sicuro che non si può? Di solito agli atti si può, però in questo caso da noi no. Vediamo un po' di cose nella cucina. No, no, no. Tessere figo di fare in cucina. Ne andiamo in bagno. In bagno che ci fai? Una bella donna. Buttiamo la radio, la miseria. Niente. Hai buttato la radio? Non ti piace la musica? Ma perché? No, vabbè. Qua. La doccia è vicino alla finestra che ti guardano tutti mentre sei nua? No, no, è più da là. Ma sei sicura? Sì. Dai, la sembra, la sembra. Ma dove hai fatto con la doccia? Allora, finiamo di abbellire come meglio possiamo la nostra casina. Allora. Voglio usare il barcone. No, non te ne... In cucina che possiamo mettere? Il frigo che ho già messo? Solo il frigo. Basta, non prendere più i frigoriferi. Le mettete a dai, il frigo. E possiamo cambiare solo il pavimento. Vabbè, evidentemente poi dobbiamo acquistare. Oppure dobbiamo recuperare altri diamanti. Bisogna vedere come funziona il tocca award. Io non sono tanto pratica. Io devo usare. Andiamo in bagno. Ok, va bene. Dai. Lasciamola così per il momento. Poi magari la possiamo personalizzare diversamente. Aspetta, voglio docanti. Conferma. Ma dove devo mettere? Ok, l'hai confermata. Ed ecco che siamo arrivati noi. Vedi che abbiamo i nostri pacchetti? Con le nostre cose. Aspetta. Allora, sì. Usciamo. Mettiamo i pacchettini lì. Aspetta. Prendiamoci i pacchetti. Vedi qua. Anche con l'altro pacchetto. Bravissimo. Grazie per chi gli ha portati i pacchetti. Veramente abbiamo portato i pacchetti. Eh sì, ma ce l'aveva anche l'altra bambina. Ma con diamante, dove ti mettiamo? Il diamante io lo metterei sotto il puff. Non si può mettere. Non si può mettere sotto il puff. No. Questo è detto al forno. Aspetta, possiamo più. Siamo dentro. Non ti mettere tu nel forno. Ok. Chiudi. Ok. Ok. Fai scendere anche me. Ecco qua. Cos'è ne posso non dare? Via. Andiamo via da casa. Questa lampadina, questa bajur diciamo, a forma di banana, è carinissima. Ma guarda questa bajur a forma di banana sbucciata. Questa deve andare al bagno. È a forma di banana sbucciata. Ma no, ho detto adotta. Ma che becco sto secchio. Ma che becco sto secchio. No, già so, mi ha detto adotta. Ok, hai combinato adesso. No. Mettiamola adotta. Ok. Mettiamola qua. Aspetta, devo mettere. Allora, mettiamo il mocio, vabbè. Sì, lo mettiamo nell'acqua, il mocio, così dopo ci possiamo spazzare per terra. La pugna. Poi apriamo alla spugna, così possiamo pulire dopo. Mettiamola nel lavandino, così la teniamo a portata di mano. Ma dentro proprio. Ma no. Poi che cosa abbiamo? Poi abbiamo un maconale. Che chi era? Non lo so, forse è un giusto. Una palla. Qui invece che abbiamo? Che i denti fischi ci sono. Qui abbiamo? Quanto si mette in bagno? Delle pentole. Dobbiamo metterle qui, in piscina. Qua. Mettiamo le pentole qua sul fuoco. Ma chiudi acqua. Poi un coltello. Mi vuole assentare? Che cavolo dà. Che ne posate. Eh, mi è caduta la posate, Emanuela. Come si fa a vuotare? Come hai fatto a perdere queste cose piccole? Ok. Mettiamole qua, così le riusciamo a vedere qui. Aspetta, il sapone. Dove mettiamo in bagno? Io mi sono preso uno spruzzino. Sapone in bagno. Aspetta, ma in bagno c'è un cassetto? No, dove potevo mettere? Ah, ci sono occhi appalati. Ok. Aspetta, aspetta. Dobbiamo prendere? Dove lo mettiamo in bagno? Tutto in bagno stiamo mettendo. Nel lavandino poi ci serve una mensola oppure un armadietto in bagno. Di solito gli atti li possono fare, ma noi non li abbiamo. Eh, la cartigienica. Vedo un rotolo di cartigienica nel cartone. Per andare in bagno è utilissima. È essenziale, Emanuela. La cartigienica. No, l'ho buttata. Ma l'hai buttata nel gabinetto? Ora come facciamo se dobbiamo dare un bagno? Ora ti tocca comprare l'altra carta. Ho un zibbo, un zibbo. Ok, facciamo qua. E per la cutina questo. Via. Cutina. Questa è qualcosa per abbesimento? È un... È un... Come si chiama? Ah, ogni volta che vedo il mappamondo fa il tuo umore. È un mappamondo che fa dei versi. Allora... E il ferro da stiro? Fermo! Ah, sto cacciando tutto. Non si capisce più nulla, mi cade tutto sull'elto. Mappamondo ti vuoi tagli un po' il dito? Come si fa a perdere quel... Vabbè, questa piantina. Questo devi fare così. Sluppia. Ho spostato un cartone. Qua ti vanno i bagni. Mi ributto nel gabinetto. Dove sono i bagni. Questo. 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 Qua. Qua. Dipende. Vabbè. Adesso mi ha fatto come se niente fosse. dobbiamo mettere il cuti raccontiamo con queste cose della cutina delle cose della cutina perché insomma come fatta a mandare mamma guarda qua tdb che è accoppato che bello allora finiamo di cacciare tutto così sappiamo tutte le cosine che abbiamo delle roselline dove le mettiamo queste le mettiamo qua però poi ci serve un bel vaso che abbiamo un dalva questo che cos'è no quello è per mettere detto è una candela mettiamola sul tavolo così facciamo atmosfera c'è un'altra candelina quella è una forbice mettiamola in cucina in bagno si per tagliarsi i capelli ok mettiamo l'altra candelina prendila ok allora in questo cartone non c'è rimasto più nulla quindi lo possiamo posare qui si può buttare qua guardate dove comparemo come non sta comparendo più ma lo mettiamo dietro aglietto aspettate ma no un'altra piantina piccola grassa vedi la possiamo mettere qui sul davanzale della finestra ma dove vedi l'ho messa sul davanzale della finestra ok abbiamo sfruttato tutto è rimasta solo una cosa in quel cartone ferma ma perché stai ferma anche io voglio giocare vabbè l'ho detto perché dobbiamo raccontare il diamante sì anche se si mettono dietro vabbò comunque andano messe da qualche parte queste cose no chiudiamo il cassetto allora mi aiuti a vedere questa cosa te l'ha detto a cartone devi fare così vedi come si fa no sposto solo il cartone ma che è un vaso per i fiori guarda io l'ho preso quello piccolino l'avevo preso l'avevo preso era un bicchiere ma non era un bicchiere un piccolo bicchierino no i bicchieri sono questi tappalenti eh sì ma io vedi ho preso un cosino piccolino no ho detto ci vanno quelli di là vabbè comunque fino a me a te abbiamo un vaso per questi fiorezzini guarda mhm il tuo fiorezzino è da dietro comunque si prendono no che fai metti tutto per terra di nuovo no si mettono così qua dove hai detto pattolino aveva già stato detto naccato già vabbè come si prendono i piatti ecco ho preso il piatto lo poggiamo qui non si mette dobbiamo prendere quest'altro piatto che non riusciamo a prendere ma dai così siamo un anno ok ragazzi per oggi il video finisce qui e noi continuiamo a drogare e noi continuiamo a personalizzare un altro po' la nostra casina ciao 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 a tutti ciao ciao